Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove si segnalano 3 km di coda per un incidente tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici in direzione Firenze. Code in uscita alla Strassigna e in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 in direzione Bologna code tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma rallentamenti tra Incisa Reggello e Valdarno. Sulla statale 12 della Betone del Brennero in corso le attività necessarie a riaprire in sicurezza il tratto all'altezza di Borgo Ammozzano al km 4500 in provincia di Lucca, interessato da una caduta di massi provenienti dal versante roccioso. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!